Hai mai visto un fiore cambiare colore? In questo esperimento useremo solo acqua colorata e un fiore bianco. Immergiamo il gambo del fiore in un bicchiere pieno di acqua con colorante alimentare. Ora aspettiamo! Poco alla volta l'acqua comincerà a risalire dentro al gambo, attraverso sottilissimi tubicini naturali chiamati vasi conduttori. Sono come minuscole cannucce, invisibili a occhio nudo. L'acqua continua a salire fino a raggiungere petali, foglie e con lei sale anche il colore. Dopo qualche ora il fiore da bianco avrà cambiato aspetto. I petali si tingeranno di rosso, blu o giallo a seconda del colore che avrai usato. Non c'è nessuna magia! È un processo naturale, si chiama capillarità. La stessa cosa possiamo osservarla con un semplice fazzoletto di carta. Prendiamo un bicchiere con acqua colorata e immergiamo una striscia di carta in verticale. Anche qui vedremo l'acqua salire lentamente verso l'alto, fino a colorare il fazzoletto sempre di più. La carta, proprio come lo stelo del fiore, è composta da fibre sottili che permettono all'acqua di risalire contro la forza di gravità. Questo movimento invisibile è fondamentale anche per la vita delle piante. È così che l'acqua assorbita dalle radici riesce a raggiungere le foglie, i fiori e i frutti. Un semplice esperimento per osservare da vicino uno dei fenomeni più importanti del mondo naturale. Se vuoi vedere altri video come questi, iscriviti al canale o lasciami un like. Ciao, alla prossima!